Vediamo ciò, ciò vuol dire evitare il suo spinto, non come prima entra e applica lo spinto, questo è quello che vuole, lui entra, però non mi trova, perché sono spostato. In tutte le tecniche dove togli il peso su tutte e due le gambe, è possibile la miciova o la giacucciova, la miciova se è in direzione dello squilibrio, la giacucciova se è contro l'azione di squilibrio, in tutti e due casi devo anticipare l'azione di squilibrio, perciò noi mi devo permettere questo, ma mentre mi entra e devo uscire.